Quando mi faccio scendere la roba, la mia qualità di decisione, non far parlare di una roba. Io faccio dire che mi piace a me, per favore. Io, per favore. Prendeteci che mi hanno un parco da parte. Ciao. Allora, aiutate il consiglio. Grazie. Poi, al senso del consiglio. Grazie, verrà. Dai, per questo intervisto, consigliere un uomo. Va bene. A voi, a voi, a voi, a voi. C'era un uomo. Allora, io... Io non dico... A... Io non dico... Io vi dico che in questa sala ci siano così gli elementi per poterla. Per ricevirla invece, così come noi abbiamo detto, e non bisogna ricevirla. Cioè, 200% di l'accessiva consigliere. Io penso che la credenza dell'attenzione è che l'accessività, non mi interessa dove sta, cosa sta facendo. E io credo che questo non dice un malattie assiditi, in modo di poter andare avanti e trovare una soluzione, un problema che c'è l'accessiva. E poi, ancora che io... Se voi vede la mia commissione, si trova di vedere con il suo approfondimento, la pandemia. Allora, io sono stato quello che ha presenze della legge. Allora, io ho cercato si edificio di essere chiaro, di non creare in quanto le aspettative da parte dei facitaliani. Cercavo di dire che, con riscettandolo sulla legge, Sì. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 la firma di, è lo che io dire, è lo che io dire, è lo che io dire, che non parlo parte dell'opposizione. Allora, io vado sempre qui, dico che il problema della città è un problema che tutti consiglieremo a fare, parlo parte dell'opposizione, parlo parte della città. Allora, io avevo indicato in tutte le città che abbiamo fatto di trovare un accordo che non si tratta di un accordo, ma che è un accordo prima, di nuovo da qui, che ci sono stati sicuramente, e io sono questo un estremo. Io, ricattivo con il mio obiettivo, io penso che, rispetto a pensare che, stanno del bajo, stanno morrendo, stanno spiegando la mano a salvare. L'altro è una cosa che ce l'ho accettato, perché io non farò mai niente per mettere in condizione di creare le parti accettative e poi usare i migliori, o non fare. Grazie.